ci stai davanti uscendo da lei e da Maligna e metti nel parchiere che fai filmi? ti rompo il telefono? vuoi fotografare e chiedi permesso di dove pubblicare il medico stiamo filmando si si si, ahorita se lo spaso cin cin ma siete andati a Maligna? luiz! salut! 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 che passò masilla tomando? si, io, però questo è l'ultimo a ver, mas, mas la che sigue